A tutti buonasera dal Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori. Benvenuti all'appuntamento del venerdì con le previsioni del tempo per il weekend. Vediamo come di consueto il tempo che abbiamo avuto sino ad oggi, venerdì 25 gennaio. In questo mese abbiamo avuto 16 giorni con cielo sereno, poco nuvoloso, 5 giornate variabili e 3 giorni con cielo molto nuvoloso o coperto. Piagge cadute sino ad oggi decisamente scarse, 3,6 mm. Il valore atteso sono 81,5 mm e questo valore medio è ottenuto con i dati degli ultimi 52 anni, da quando iniziano le registrazioni del Centro Geofisico. Per raggiungere questo valore medio dovrebbero cadere ancora 77,9 mm, ma non sono previste precipitazioni intense fino a fine mese. Abbiamo dall'inizio dell'anno un deficit di meno 61,4. Temperature di questo mese di gennaio abbiamo registrato una media di 4,5 gradi. Il valore atteso per l'intero mese sono 3 gradi, quindi nonostante le gelate e il freddo di queste ultime mattine abbiamo ancora un grado e mezzo in più rispetto a quanto ci saremmo attesi. La giornata più calda ha fatto registrare una massima di 15 gradi ed è stata il 6 gennaio. Abbiamo però avarese un record di 23,5 gradi, valore registrato il 28 gennaio del 2008. La temperatura più bassa invece, meno 4,5 gradi, l'abbiamo registrata il 23 gennaio. A Varese però il 7 gennaio del 1985 il termometro ha registrato una temperatura minima di meno 12,5 gradi. Adesso possiamo passare all'immagine ripresa dal satellite Metosat da una distanza di 36.000 km dalla superficie terrestre. Nell'animazione vediamo la presenza della perturbazione responsabile delle nevicate che hanno però interessato proprio marginalmente le nostre zone nella giornata dell'altro ieri e abbiamo la bassa pressione che con venti anti-orari si sta spostando verso il Mediterraneo, verso sud-est. Ha lasciato spazio, allontanandosi appunto verso sud-est, a correnti dai settori settentrionali che hanno portato la giornata ventosa di oggi a cielo sereno e azzurro. Nei prossimi giorni avremo ancora la presenza delle aree di bassa pressione sul nord Europa che a tratti si abbasseranno fin sulla regione padano-alpina e porteranno alcune perturbazioni a transitare sulle nostre regioni. Abbiamo però perturbazioni con precipitazioni di debole intensità e poi saranno anche precipitazioni non continue ma presenti un po' qua e là su tutta la regione. Contemporaneamente nel momento in cui le perturbazioni si allontanano subentrano dei flussi occidentali e quindi il passaggio a tempo soleggiato con giornate asciutte. Vediamo alla carta per domani sabato alle ore 14. Qua sono riportate le isobere, linee che uniscono punti di uguale pressione atmosferica. Troviamo aree di alta pressione sull'Atlantico e anche sull'Europa nord-orientale con massimo di 1.038 pascal. Troviamo invece poi una serie di aree di bassa pressione che dalle isole britanniche dal nord Atlantico attraversano un po' tutta l'Europa e raggiungono i Balcani. Sono le responsabili del passaggio appunto di alcune perturbazioni che sono però perturbazioni molto deboli. Veniamo adesso alle previsioni del tempo dal momento in cui vi sto parlando. La serata di venerdì è ancora con cielo sereno e ancora vento che però è in graduale attenuazione. La giornata di domani sabato sarà una giornata generalmente ben soleggiata. Avremo foschie e banchi di nebbia nelle ore più fredde solo sulla bassa padana e avremo anche qui delle locali gelate. Sul resto della regione le temperature massime sono comprese tra 8 e 14 gradi nel senso che nelle zone interessate ancora dal favogno avremo un locale rialzo termico. Lo stesso per le minime che nei punti riparati dal vento possono raggiungere i meno 6 gradi altrove invece siamo sugli 0 gradi. Nel corso del pomeriggio sera passaggio di nubi alte e in serate nella notte un aumento graduale della copertura nuvolosa. La giornata di domenica sarà una giornata con cielo nuvoloso, irregolarmente nuvoloso inizialmente e poi molto nuvoloso coperto. Avremo possibilità di precipitazioni che saranno comunque deboli e intermittenti e con nevicate soltanto al di sopra dei 600-700 metri. Temperature massime tra 5 e 8 gradi, le minime tra meno 3 e 1 grado. Primi giorni della prossima settimana, lunedì torna nuovamente ad essere soleggiato e asciutto, lo stesso anche per martedì, a tratti nuovamente ventilato da Norda. E nella giornata di mercoledì vedrà invece l'arrivo di una nuova perturbazione, quindi cieli molto nuvolosi, coperti, ma precipitazioni dove presenti solo di debole intensità. Con questo è tutto concluso, vi saluto, vi auguro buona serata, buon weekend e ci rivediamo la prossima settimana. Grazie